... Amico mio, sei un fortunato figlio di puttana! Lo sei? Dimi video! Casa! Non mi credi? Questa gioia! Non può essere pinta! Per finirla ci sono volute addirittura tre settimane, ma è veramente pronto! Ed è tutta per te! Che c'è ora? Dai, non fare così! Ci divertiremo! Vedrai! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.